Bentornati a TV Stars and Gossip. Oggi parleremo di serie tv americane. Partiamo dal nuovo progetto del celebre J.J. Abrams, un uomo davvero stancabile. Sì, perché in questo periodo Abrams non solo sta lavorando a diverse produzioni cinematografiche, come Mission Impossible 4 e il kickeratissimo Super 8, ma continua a dedicarsi alla sua passione primordiale, le serie tv. E così il papà di Lost, Fringe e Alias è al lavoro ad un nuovo progetto, una commedia di ambientazione ospedaliera, tipo Scrub. Per ora pochissime le indiscrizioni a riguardo, l'unica cosa certa è che la sitcom verrà distribuita dal network americano della Fox. Sempre per rimanere in tema di sitcom, è in onda sulla ABC americana la seconda stagione di Cougar Town, la serie comica prodotta ed interpretata a Cornecox, Monica D. France per intenderci, e creata dall'autore di Scrubs, Bill Lorenz. Attesissime partecipazioni di questa nuova serie sono l'amica di sempre Jennifer Aniston e Ken Jenkins, il dottor Kelso di Scrub, che qui interpreta il papà di Jules. Ma vediamoci il trailer della seconda stagione. All new Wednesdays, 9.38.30 central. Ciao, ciao!